Se mi dicono Napoli, mi vengono in mente tante cose. Una delle città più belle al mondo è sicuramente il popolo napoletano, che ha grandissime passioni. So che sarà una grandissima esperienza, un'esperienza di calcistica ma anche di vita. E ho grande entusiasmo, grande voglia veramente di viverla. Ma penso che avendo l'opportunità di fare questo mestiere o da calciatore o da allenatore, io penso che vivere un'esperienza a Napoli sia una cosa unica, che se uno è il privilegio di poterla fare, la deve assolutamente fare questa esperienza. Lo stadio Maradona mi aiuta un bellissimo ricordo, Napoli-Lecce, dove ho avuto il privilegio di marcare Maradona. Abbiamo perso 3-2 alla fine perché fece il gol il Carnevale, però il ricordo più grande è stato quello del mio primo gol in Serie A, proprio il Maradona, marcando Maradona. Quindi marcavo lui e all'occorrenza cercavo di andare all'attacco. Fu per me una grandissima soddisfazione. Ai tifosi c'è solo di dire una cosa, non solo ai tifosi, tutto l'ambiente napoletano, ama fatica.